Un'agenda è fatta di anni, mesi, giorni ed è giorno dopo giorno che stiamo ricominciando. In modo sostenibile, inclusivo, intelligente. Ehi gente, vi chiedevate quando saremmo ripartiti? Adesso riprendiamo a camminare, a correre, volare. Abbiamo tanta energia. Energia pulita e rinnovabile. Rinnoviamo il modo di interagire. Io e te, lui e lei. Abbiamo voglia di starci a sentire. Non sarà facile. Insieme ce la facciamo. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021. Mettilo in agenda. Stiamo agendo. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Grazie a tutti.